La decisione di ieri pomeriggio dei sindaci di Sciacca e Menfi di disporre per oggi la chiusura delle scuole sulla base dell'allerta meteo arancione che era stata diramata dalla protezione civile regionale si inserisce probabilmente anche nel clima sempre più preoccupante che si è venuto a generare dopo le devastazioni causate dall'alluvione dei giorni scorsi. Decisione giunta poco dopo che una tromba d'aria, probabilmente la stessa che poi in serata avrebbe ucciso un uomo a Modica nel Ragusano, aveva sfiorato alcuni dei pescherecci della flotta di Sciacca mentre questi rientravano in porto. Immagini a dir poco drammatiche quelle che circolavano ieri pomeriggio in rete. Fenomeno meteorologico che si è manifestato anche sulla terraferma abbattendo diversi alberi tra le zone carbone, bordea e tonnara arrivando a scoperchiare un prefabbricato. La guardia costiera di Sciacca ha seguito minuto per minuto l'evolversi della situazione attraverso il monitoraggio affidato ai sistemi informatici in dotazione dell'autorità marittima. Nessun danno si è avuto né alle opere portuali né ai pescherecci. Ma la notte scorsa un altro forte temporale ha interessato ancora una volta il territorio di Sciacca ma anche quello dell'Interland generando ansia e apprezzione nella popolazione che ovviamente ha temuto per eventuali nuovi allagamenti. Ma per fortuna stavolta non è successo niente di grave dunque si può continuare a lavorare almeno sulla stima dei danni e soprattutto sulla soluzione più urgente da trovare affinché le famiglie evacuate possano tornare al più presto all'interno delle proprie dimore. La dichiarazione dello stato di calamità di emergenza fatta dai sindaci di Sciacca, Menfi e Ribera rischia di essere solo un adempimento di facciata soprattutto se si pensa che come denunciato da Francesca Valenti nella conferenza stampa della scorsa settimana si attendono ancora i ristori economici riferiti all'alluvione di ben cinque anni fa. A Sciacca intanto sono ancora in corso gli interventi di rimozione di fango e detriti in diverse delle zone colpite, interventi che tuttavia stanno andando particolarmente a rilento e giungono la mentela alla nostra emittente in ordine alla situazione di alcune delle vie più transitate della città diventate molto pericolose invase dalle pietre e dal fango che nel frattempo si è indurito è il caso della via Cide di Gasperi mentre preoccupa anche la situazione che riguarda tombini e caditoie completamente otturate. Qui siamo in via Emilia, comprensibilmente difficile riuscire a garantire interventi di ripristino della normalità in tutte le zone che sono state colpite dall'alluvione della settimana scorsa. In Contrada Foggia i residenti cominciano a temere che dopo l'intensità ammirevole degli interventi di volontariato e protezione civile nei primi giorni dopo la bomba d'acqua improvvisamente su quella zona i riflettori si possano spegnere la presenza di fango necessita di un'operazione di rimozione senza ulteriori indugi e mentre dalla Contrada Arenella il senatore Rino Marinello segnala la presenza di un pesante masso che ha invaso la carreggiata continuano a lavorare le ditte incaricate dal comune di effettuare interventi lungo tutto il perimetro cittadino per restituire transitabilità dignitosa a strade ormai diventate inadeguate e pericolosissime problemi importanti anche dalle zone di campagna dove diverse trazzere stanno letteralmente scomparendo qui siamo in località scunchipani nei pressi del celebre oleastro di Inveges dove agricoltori e residenti non riescono più a percorrere neanche un metro. Su tutto il resto dell'emergenza le considerazioni sui cambiamenti climatici e sui massimi sistemi assolutamente rispettabilissime vanno rimandate a momenti un po' più adatti al momento infatti quello che occorre è l'intervento di urgenza per cercare di ristabilire una parvenza di normalità. Si sa soltanto che la sfiducia da parte della popolazione nei confronti delle istituzioni si tocca sempre più con mano. I cambiamenti climatici sono una realtà incontrovertibile di fronte ai quali bisogna evidentemente studiare delle soluzioni su un assetto idrogeologico e non stiamo parlando soltanto di quello che riguarda la città di Sciacca che sconta errori indubitabili che sono stati commessi nel passato ma che non possono sempre essere rinfacciati senza più studiare anche soluzioni che possono essere concrete e credibili. Sciacca è una città con una viabilità qualitativamente diventata insostenibile e questo anche al di là dei problemi del maltempo ma anche per le notissime questioni di impianti del sottosuolo, acqua e fogne che non riescono più ad essere funzionali. Uno dei simboli è questa frana stradale che da mesi ormai insiste sulla via toscana, area transennata naturalmente per garantire la sicurezza delle persone ma bisognerebbe anche intervenire in maniera finalmente urgente per ripristinare almeno una parvenza di normalità.